Pronti? Uno, due, tre. Esce Immanuel Kant, anzi Mannu Del Pino, Immanuel Kant si va a profilare al fianco di Mosè D'Asolo, davanti c'è Muso, duro spin, 30 e 400 metri iniziali con Mannu Del Pino che avvicina il battistrada, due seguiti da vicino e viene fuori. Prima parte di gara decisamente sollecito, ha tenuto conto della distanza, assaggio davanti alle tribune con Mannu Del Pino che retrocede una volta vista la mala parata delle sue mosse seguite da Nunzio Ciprum, pedinato da Immanuel Kant, a largo ha spostato anche Ischul di Poggio. Primo giro in un minuto, ha camminato lungo, Muso, duro spin e guida nei confronti Mosè D'Asolo, Mannu Del Pino per sua disgrazia di fuori scoperta. Terzo in corda è Idol la solla, a precedere Jacopo Duke, Napoli, Rab, lungo i birilli anche Imola November, viene via Nuzio Ciprum. Ciprum in aggiramento su Mannu Del Pino, si va a profilare a diretto contatto del leader Muso, duro spin. Due sempre seguiti, uno lungo la corda da Mosè D'Asolo e ora l'altro da Mannu Del Pino. Terza pareglia di fuori costante per Immanuel Kant, è cambiato solo la dama da parte di Nunzio Ciprum che ha deciso di correre in fuori scoperto per scelta. Un giro dalla conclusione, si profila al fianco di Muso, duro spin ma senza implementare il ritmo. Tutti hanno accettato questo stato di cose per linee esterne, sono in retrovia anche Nevergare e Nester dei Venti. Adesso arriveranno gli spari, presumibilmente, con Muso, duro spin in vantaggio nei confronti di Nunzio Ciprum. Le in tasca c'è Mosè D'Asolo, viene via Immanuel Kant in terza corsia, pedinato da Isshul Di Poggio che sposta in quarta corsia e dà il parziale a metà della dritta ai fronte. Muso, duro spin in vantaggio. Nunzio Ciprum che sull'accelerazione è preso in contropiede. Sua scia, poi Jacopo Diucchi in attesa di spazio, a retta arrivo con Muso, duro spin inseguito da Mosè D'Asolo. Di dentro anche Napoli Rab, Mosè D'Asolo che attacca, tende a passare. E' Mosè D'Asolo che viene a vincere davanti a Muso, duro spin, mentre per il terzo Jacopo Diucchi arriva a non correre, probabilmente a folgolare Ido Lassol. Successo di Mosè D'Asolo a 15 contro 1, Francesco Virzi, trendi Giancarlo Baldi a programma. I colori della scuderia, Hector Mosè D'Asolo che risolve allo speed, secondo è Muso, duro spin, terzo.